Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendal e bentornati in un nuovissimo e fantastico video della ModCraft Nello scorso episodio ho affrontato un demone che mi ha massacrato e mi ha distrutto tutta l'armatura E infatti sono costretto adesso a utilizzare questa di ricambio in ferro Che se non altro almeno è un'armatura epica barra leggendaria Ma quest'oggi faremo molti progressi perché infatti mi avete dato dei consigli estremamente utili Innanzitutto mi avete spiegato per quale motivo nello scorso episodio sono morto Nonostante avessi il totem della non morte in mano Perché a quanto pare, visto che questa è una spada a due mani Quando è equipaggiata, quindi quando la sto utilizzando, non posso utilizzare il totem E quindi se rischio di morire mentre ho una spada a due mani Gli effetti del totem saranno totalmente inutili E allora mi avete consigliato di prendere una spada a una sola mano Come ad esempio questa Che non fa schifissimo Però non è neanche sto granchè rispetto alla mia che toglie 17,1 Questa invece toglie 6 C'è una bella differenza Però siccome al momento non sono ben equipaggiato Sicuramente devo sfruttare il potere dei totem Quindi questa O meglio, cerchiamo un'altra Se c'è un'altra ancora più forte prendiamo un'altra Se no mi tengo quella Queste sono tutte a due mani Due mani Una mano però questa è una spada magica Questo toglie 6,6 Ah perché c'ha sharpness 2 Ok no Anche la katana di ferro è una spada a due mani Quindi non me ne faccio nulla E no ragazzi Mi sa che scherzi a parte Questa fino ad ora è la migliore Spada che ovviamente dovremo incantare Ma come potete ben vedere Dopo essere morto Non ho molti livelli Ne ho soltanto 20 Ma mi avete spiegato un trucchetto veramente fondamentale A quanto pare esiste un oggetto chiamato Tomb of Scrapping Quindi questo libro qua Che si crafta in questo modo È anche piuttosto semplice E questo libro è in grado di estrarre Un incantesimo da un oggetto Quindi ad esempio Posso estrarre infinità da quest'arco E tenerlo nel libro In modo da poterlo utilizzare per qualche altro oggetto Fammelo fare subito al volo Allora prendiamo il ferro Che per fortuna non manca mai Anche se ho fatto 30.000 incudini Ora facciamo un incudine E prendiamo i libri 8 Quindi mi basta fare così Poi così Et voilà 8 tom of scrapping Ora nello scorso video abbiamo trovato Ben due spade all'interno della magione Una con mending Che quindi è OP Se riesco a estrarre il mending Da sta spada E l'altra c'ha Knowledge of the ages Incantesimo che sicuramente Vi ricorderete Perché è in grado Di trasformare in esperienza Qualsiasi drop dei mostri Quindi io questo Lo devo estrarre Assolutamente Ed eccolo qui Guardate ragazzi Fantastico No vabbè Ma meno male Che mi avete dato sto consiglio Cioè adesso c'ho due Tra i libri più OP Che stavo cercando in assoluto Ottimo Ora questi li mettiamo qua Così se trovo degli altri oggetti Gli tolgo gli incantesimi Tipo questo qua Sharpness 2 Ha senso toglierlo? Forse no Se fosse stato già tipo Sharpness 3 o Sharpness 4 Sì Questi hanno altri incantesimi Per caso Non si direbbe No Quindi per il momento Questi li mettiamo qua Per quanto riguarda il libro mending Invece Io direi di metterlo nell'armatura Nel set d'armatura Che stiamo cercando Di far diventare finale Questo prima o poi Sarà tutto full nederite Adesso prendiamo Knowledge of the ages Perché io lo devo mettere assolutamente In questa spada Eh sì Così farmiamo un casino di livelli Stiamo scherzando Questa spada è OP È una spada a due mani Va bene Ma non importa È pur sempre una spada secondaria Che utilizzeremo Soltanto per farmare Quindi adesso Qualsiasi animale O mostro Io dovessi uccidere Anziché darmi il suo drop Quindi la pelle o la carne Mi darà più esperienza Questa cosa ragazzi È fondamentale Per farsi un'ottima armatura E un'ottima spada I livelli Mi servono Oddio C'è un rinoceronte Proviamo ad attaccarlo Magari mi dà tantissima exp E infatti Sono già a livello 20 Ma ragazzi Sto consiglio che mi avete dato È OP Eh io quasi quasi Adesso mi metto a farmare Mi metto a farmare di brutto Vado a cercare un dungeon Di quelli semplici Perché ormai L'abbiamo capito Che non devo assolutamente Scherzare contro i boss Non sono pronto per batterli Ok Mi sono tirato tutte le bottigliette Fantastico Le meletoro ce le abbiamo Eh cosa è successo Ah è diventato inverno Guardate Si sta agghiacciando il lago Vicino a casa mia Ma pensate Non ne avevo idea Eh allora devo raccogliere le mele Eh sì Perché sennò vanno male poi no In inverno c'era scritto Che non crescono le mele O i frutti in generale Giustamente anche Giustamente E quindi cerchiamo di raccoglierle tutte Così mi ci faccio le mele d'oro Poi per quanto riguarda invece L'armatura di topazio Mi avete detto Che il template Per trasformare un'armatura di nederite In armatura di topazio A quanto pare Si può trovare anche nel neder Devo semplicemente trovare Una di quelle piramidi Del deserto Nere Che si trovano nel neder Io sinceramente ragazzi Non ne ho idea Possiamo sperimentare anche Questa cosa Perché ovviamente L'armatura di topazio È la migliore Che posso fare In assoluto Per ora E ve ne siete resi conto Tutti quanti Infatti Nello scorso episodio Vi avevo chiesto Ragazzi Continuo a cercare di fare L'armatura di topazio Oppure ne faccio una diversa Ma quella di topazio È veramente troppo P Perché sono diverse queste Ah no Ok Molto bene Io a questo punto direi Di andare a farmare un pochettino Quindi potrei andare Potrei andare Vediamo O vado al mulino Che lì ci sono Dei pillager In realtà non so Se ce ne sono ancora Perché nello scorso episodio Li ho sterminati So solo che adesso Fare 40 livelli Sarà un gioco da ragazzi E infatti Se mi dovessi fare Una vera e propria farm Di mostri Sarei a posto Per tutta la vita Salve Ci sono pillager Qua per caso Ah ma guardate Cioè salgo le scale In questo modo Non lo sapevo No mi sa che li ho massacrati tutti Vai cicino Ci toccherà Trovare un altro dungeon Possibilmente uno Semplice però Non voglio rischiare la vita Ecco qua c'è il villager Contadino Oh cos'è No raga È l'ingresso Al tempio del mare Ma è diverso È molto più grande Del tempio normale Di minecraft Questo No via 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 Allontaniamoci Prima che mi danno gli effetti negativi E non li voglio Ok direi che se farm Qua per un pochetto Le cose andranno per il meglio Giusto È bello pieno di mostri Muori Muori anche tu Dammi i tuoi drop Anzi Trasforma i drop in exp Grazie E infatti ragazzi Sono già arrivato A 25 livelli Stincantesimo È veramente pazzesco Comunque Combinato a questa spada Che fa il vortice Poi Ok Ucciso anche il fantasmino Bene Ammazziamo pure il creeper Siamo già a 26 livelli Ricordatevi ragazzi Che dovrò cercare Tutte armi e armature Con mending E poi Estrapoleremo Quell'incantesimo E lo metteremo Nella nostra armatura finale Allora Questo è soul siphon 2 Che cos'è? Soul siphon No vabbè Non ci posso credere Possibilità di ottenere Più esperienza Dopo una kill Eh ma questo Allora me lo piglio Gli tolgo l'incantesimo Lo metto qua E farmo veramente tantissimo Ma questo è ottimo ragazzi Questo è ottimo Oh Un altro occhio del land Questo lo si mette da parte Ci serviranno Ma è fantastico ragazzi Cioè ho trovato Una delle cose migliori Che potessi trovare Cioè questa spada Adesso diventerà Veramente una spada Da farming Ma muori Ma che pensi di fare Dov'è il mio cuccioletto? Vieni qua Torniamo a casa E adesso io tolgo L'incantesimo Da quell'ascia E lo aggiungiamo alla spada Cioè ma scherzi Farmerò il doppio Dell'esperienza così Non solo ottengo Exp dai drop Ma ottengo Exp anche dalle kill Quindi per il momento Mi sto facendo Un equipaggiamento Per reggere bene Tutti quanti I mostri E per farmare Quindi direi che al momento La priorità è quello Di farsi un'arma Da exp Avere una spada Che mi permette Di fare tantissimi livelli In modo tale Da poter incantare Tutte le armature Come mi pare piace E da poter fare Diversi esperimenti Allora Fammi prendere un attimino Il tomb of scrapping E c'è ma stai scherzando Si fa così Si toglie Soul Siphon No Mannaggia Si è rotto l'incudine Va bene va bene va bene Ce l'ho ancora del ferro Non è detta l'ultima parola Ne ho dell'altro Per caso Mi sa di no Devo iniziare a riprendere Il ferro Quando vedo le cesse Perché ormai È da un bel po' Che lo ignoro Allora Quest'occhio Intanto lo si metto qua Così tra non molto Ah ce l'avevo già Va bene Siamo a 5 occhi Siamo a 5 occhi su 12 Comunque Ricordatevi che l'unico modo Per entrare nel portale Dell'end È utilizzando quegli occhi là Ok Abbiamo fatto un altro incudine Ormai ho praticamente Finito il ferro Però Mettiamo Soul Siphon 2 A questa spada Così abbiamo Knowledge of the Ages E Soul Siphon E anche Sharpness Questa è una spada Perfetta per expare E ora Ve ne darò Una dimostrazione State a guardare Uccido sto zombie E passerò a 24 livelli C'è C'è Raga no è OP Farmare adesso diventerà Velocissimo Guarda 26 Boom Qua ne abbiamo un altro Con l'armatura No raga Non c'è quello là Raga Ho visto Ho visto una specie Tipo di pillager vampiro È sparito raga Era qua Vi giuro ragazzi Non sono pazzo Sembrava proprio Un vampiro Ok In men che non si dica Siamo tornati Praticamente a 30 livelli Oh Che sta succedendo a casa mia Perché prende fuoco Ehi Ehi Ma che cavolo Sta succedendo No 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 raga Ma che cavolo è successo Ma porca miseria Ma porca miseria Ma porca miseria Cos'è stato Cos'è stato Fermo Spegni Ma sono stato io No non sono stato io No non sono stato io Oh porca miseria Oh porca miseria Spegni tutto Spegni tutto Che qua mi entrano le bestie a casa Mi entrano i mostri poi Spegni No 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 Che mi si bruciano le ceste Ci sono le mie cose qui Oh Fermi Fermi Ho spento tutto Oh mio dio Ma che cavolo è successo Questo è cenere Mi ha preso fuoco la casa Ma porca miseria Ma chi è stato Vabbè poi la ripareremo Ma dai Ok continuo a farmare un altro po' E' tempo di cercare un altro dungeon L'obiettivo ormai è quello di trovare delle armi e delle armature già incantate Ed estrapolare i loro incantesimi per metterli nelle mie Tra l'altro qua non c'era quel monumento Eh sì infatti qua ho buttato tutta la mia roba Ma tipo 40 episodi fa E ancora qui? No perché io sto ferro me lo prenderei Visto che siamo a corto L'ho utilizzato tutto per fare due incudini Eh sai com'è? Le risorse non sono mica infinite Piglia e porta a casa Mettiamolo qua Ma che cavolo diverso fai tu? Allora io sono venuto da questa parte se non sbaglio Nei primi episodi sono arrivato proprio da queste montagne Eh sì infatti qua su non abbiamo mai esplorato Ok potremmo trovare delle belle sorprese Ora so già che cosa starete pensando Ma Kendall perché ti sei fatto un'armatura in ferro Anziché prendere un'armatura in diamante Un'armatura più potente Per il semplice fatto che così se dovessi morire Non vado a perdere nulla Ok iniziamo ad arrivare in terre inesplorate Potrebbero esserci pericoli ovunque ragazzi Occhi ben aperti Soprattutto nei biomi di ghiaccio E vabbè ma qui è stupendo Ma ragazzi ma è bellissimo Allora aspetta facciamo un mini pit stop un attimino qua Vediamo se per caso c'è qualcosa di utile che posso prendere Ho sentito il suono di un incudine Tu che vendi? Niente di utile Raga ho sentito un incudine Incudine che ora come ora mi farebbe comodo Ehm scusate Colli L'esperienza è più importante Chest Grano va bene totalmente inutile Ma che è un motel questo? Sono le stanze per dormire e basta? Ecco un'altra cesta Che genera delle mappe del tesoro inutili Dov'è l'incudine? L'ho sentito eh non sono scemo Me lo stanno nascondendo? Forse c'è un piano di sotto No Vabbè continuiamo da questa parte Al momento mi servono soltanto armi e armature con Unbreaking e mending Tutto il resto per ora non mi importa Devo riuscire a farmi un'armatura Veramente potente Se no ragazzi Qua non riusciamo a reggere E questo è esattamente Ciò che mi serviva Finalmente Tutto sto andando per il meglio Appena riuscirò a mettere unbreaking E mending Alla mia armatura e nederite Poi ci divertiremo Oh E facciamocelo Una bella farmata di pillager Che poi tecnicamente Loro sono quelli che mi danno anche meno livelli Perché ovviamente non droppano molto Oh come raid? È partito un raid? Ok A quanto pare ho risvegliato il raid Ma siamo già quasi al completamento Che strano Il raid parte qua e non nel villaggio Beh effettivamente ha più senso Vediamo che ci abbiamo qua Spada con Bane of Illagers Non mi serve a niente Exploding 2 Incantesimo più inutile mai fatto Mele Me le prendo volentieri E dove sono gli altri pillager adesso per fare il raid? Mi direi che devo tipo liberare loro Ah visto? Lo sto completando Semplicemente perché sto liberando gli Aaron Golem Ora libero gli LA E lo finisco? Boh Qua ce n'è un altro da liberare Siete liberi piccolini Andate Eh però scusa L'ho completato Non mi ha dato nessun effetto Niente Vabbè Mi sono fatto 7 livelli facilmente Wow Oh si sta Aspetta si sta rigenerando Si è rigenerato il raid Raga che cos'è quella struttura là sotto Che abbiamo visto? Vai 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 Che tanto mi aiuta pure l'Aeron Golem Grande bro Ma muori Cosa pensi di fare contro l'imperatore? Nuovo albero delle abilità Aumentiamo Velocità di movimento Oppure veloce No attacco attacco Velocità d'attacco molto meglio Ok fermi tutti Mi spiace ragazzi ma io devo capire che cos'è sta struttura Sembra tipo una mega magione gigante Oddio qua sarà pieno di pericoli Eccoli già Già li vedo Raga qua si farma fino al livello 60 Ve lo dico eh Ve lo dico Allora tu resta parcheggiato qua L'armatura a parte il fatto che non ha degli incantesimi Potrà reggere secondo me A meno che questi siano dei pillager potenziati come quegli altri In quel caso sarebbe un problema 24 di vita Non è potenziato Lo reggiamo lo reggiamo Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cos'è quel mostro? Arco e frecce Arco e frecce Dov'è? Fatte vedere Fatte ti ammazzo attraverso la finestra Ma dove è finito quello? Non può essere sparito Era qua Eccolo eccolo Vediamo se riesco a prenderlo attraverso il muro Preso Ammazziamolo 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 prima ancora che si avvicini a me Ok morto No raga cos'è sto posto? Togli subito la TNT Togli tutte le trappole Aspetta Non è che questi sono libri incantati? No libri normali mi sa Sì Bene ragazzi Ho trovato una farm d'esperienza Oh mio dio Mi stavano aspettando Io quasi quasi gli aprirei le porte Che ne dite? Scendete stupidi E prendete questo Sì Vai vai non mi fate paura Dai che sono quasi a livello 40 Oh mio dio quanti sono? Ok Là ci sono degli altri mostri Qua che c'è? Il balcone Bene così riesco ad orientarmi più o meno Ehi che pensi di fare tu? Raga sono a livello 40 di già Ero a livello 20 inizio episodio Chest Vabbè prendo il ferro giusto perché sono a corto Cos'è? Perché c'è? Perché c'è lo skulk? Via 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 rompilo 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 Raga 41 livelli Io direi proprio mica male Efficienza 1 Ma perché? È strano Guardate c'è la barra rossa tipo verso la fine È un bug? E questi che sono? Blocchi di ferro? No è lana Aspè 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 Che c'è qua in mezzo? Ci deve essere qualcosa Sennò perché coprire il tutto con la lana? Ah c'è lo spawner Ok Continuiamo così Continuiamo così Devo cercare di luttare tutte le ceste Salve! Ok lui mi dà il totem Quindi utilizziamo l'altra spada Bene Qua che c'è? Un altro totem ancora Libro piercing E diamante Oh chi è? Chi è? Da dov'è che mi attacca? Magnatina mela d'oro un attimo Che c'abbiamo qua? Nulla di utile Ma mi attacca da qua Dal secondo piano Da dov'è? Ma che è? È qua L'ho visto Sono bloccato Sono bloccato Fammi prendere le ceste e basta Fammi prendere le ceste Dai Freezing Inutile Non so da dove stiano venendo questi attacchi Ma cambiamo zona Qua che c'abbiamo? Nulla di utile Nulla di utile Speriamo che non nasca il warden Aiuto! E da dove venite voi esattamente? Ma aiuto cosa? Stavo scherzando Morite tutti 43 livelli easy Io non capisco chi mi stia attaccando Vai 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 Farma un altro po' Farma un altro po' Piglia chest Nulla di utile Ok Ci abbiamo strega e pillager Chest Inutile Aia aia Ok 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 Forse ora si mette male È arrivato il momento di correre Ok 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 Ora li stunno tutti Oh ragazzi 45 livelli Sto dungeon è bello OP Oi Morite 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 Aiaiaiaiaia Il veleno fa male Il veleno fa male Mangiamela Muori maledettissima strega Adesso Addio Ok ragazzi Sono noi sotterranei del dungeon Temptation rushdown Non so cosa siano ma li pigliamo Diamanti compresi Metti i diamanti qua Metti i libri qua Ecco secondo me i veri tesori li troveremo qua adesso Ok voi siete tanti Voi siete tanti Si sta per rompere l'armatura Raga mi sa che devo tornare verso casa Oh no Oh no Non lui Non lui Non lui Non lui Non lui Non lui Oi Ma che cavolo è successo No Ok ok Tranquilli 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 Devo scappare Devo scappare Devo scappare Raga è spuntato il mago È spuntato il mago Eh il problema è che io il mago l'ultima volta l'ho affrontato con l'armatura OP Non con un'armatura in ferro normale Mi sta attaccando No non è lui che mi attacca Ok devo andare via 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 Dobbiamo scappare immediatamente Buttati dalla finestra Non importa Dov'è la bacchetta Eccola Riesco a richiamarlo già qua No siamo troppo lontani Sto maledetto mago Perché spunta Mannaggia ho lasciato la sua spada a casa Mi aveva droppato una spada Che ti permette di far sì che non ti attacchi Ok però lo sto seminando Bene dai Ok il dungeon l'abbiamo esplorato per bene Mi sono fatto 47 livelli Chiamiamo l'uccellino adesso E via No Eh no Wow 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 Io vi giuro non capisco per quale motivo spawnino Ma non mi importa Perché adesso questi mi perderanno di vista Io me ne vado Torniamo a casa Oh raga con tutti questi livelli Mi incanto l'armatura che è una favola Sicuro Buttiamo tutto ciò che è inutile Guardate quanti totem sono riuscito a fare E a casa ne ho altri Ok devo dire che queste spedizioni Stanno andando sempre meglio ultimamente Oh eccoci di ritorno Spero che i maghetti da strapazzo Non si teletrasportino appena a terra Ma tecnicamente no Dovrei averli seminati Fantastico Quindi adesso prendiamo un altro Tomb of Scrapping Riprendiamo questa Che ci aveva Unbreaking 2 E io sto Unbreaking 2 Me lo piglio Eh sì Eh sì E adesso ci abbiamo sia Unbreaking Che Mending Da mettere alla nostra armatura finale Non appena ovviamente avrà degli incantesimi decenti Perché Protection 2 Insomma eh Probabilmente vi starete chiedendo Per quale motivo Non la sto trasformando in nederite Ed è semplicemente perché Altrimenti poi se voglio trovare Una rarità migliore Quindi ad esempio Leggendaria o mitica Mi verrebbe a costare di più Quindi per il momento La teniamo in diamante Così se ho bisogno di cambiare le rarità Devo utilizzare solo i diamanti Altrimenti se poi devo utilizzare la nederite È un bel problemino Smitting template Che sicuramente dovremmo sdoppiare E io adesso proverei ad andare nel neder Come mi avete consigliato voi A cercare le piramidi nere Perché a quanto pare Lì si può trovare il topazio Ma prima ovviamente Dovremmo spendere un po' dei nostri livellini Ma non ho veramente più ferro C'ho soltanto questo Oh mamma mia Sono messo male Dicevo dovremmo spendere un po' dei nostri livellini Per riparare questa armatura Che probabilmente starete pensando Ma scusa non ti conviene a questo punto Ricraftartela La risposta è no ragazzi Per il semplice fatto che Questa qua è epica e leggendaria Tra l'altro non so per quale motivo Ma consumo veramente pochissimi livelli Nonostante mi dice Costo dell'incantesimo 3 Mi va via di pochissimo La barra dell'esperienza Meglio così Ora aspetta un attimo Io sono curioso di vedere una roba Eh questa è già tutta incantata Voglio prendere Qualcosa di non incantato Boh tipo questo dai E far finta di incantarlo Con le nuove librerie Come ben sapete Queste librerie dovrebbero essere potenziate Icy Thorns Livello 54 Oh mamma mia La spada ad esempio mi esce Oh spell power livello 4 Finalmente Gli incantesimi forti Ok Adesso si che si ragiona E' tutto ciò che mi serviva Il che significa che adesso Probabilmente Riusciremo ad ottenere Sharpness 4 Le sharpness 5 Le armi Oh Finalmente Ma sai che c'è Aspetta un attimo Ma io mi incanto pure St'armatura in ferro Già che ci sono Ma sì Tanto i livelli Li faccio con una facilità estrema Adesso Mi basterà far riprodurre Un centinaio di mucche E siamo a posto Allora Questa allora incantiamola Vediamo che esce fuori Certo che se mi costa 54 livelli Per tutto E' un bel problemino eh Però guardate Blast protection 4 Il che significa Che mi potrebbe uscire Effettivamente Protection 4 adesso Va bene Per il momento Che faccio L'incanto qua Devo assolutamente Farmi una farm d'esperienza Sì per forza Fire focus è utile Protection 3 Fire focus E food reserve Visto? Adesso gli incantesimi Sono discreti E ho utilizzato questa Pensate quando potrò Utilizzare questa Quando avrò abbastanza livelli Niente Comunque non posso fare nient'altro Perché ora mi costa 45 Va bene dai E intanto qualcosina Ce la siamo portata a casa Direi a questo punto Di entrare nel nether Sia per farmare Degli altri livelli Ma soprattutto Per cercare La famosissima Piramide nera Del nether Dove tecnicamente Potrei trovare Il topazio A detta vostra Se non altro Allora Ricordiamoci di utilizzare Arco e frecce Già che ce li ho E c'ho anche Un arco con infinità Quindi sfruttiamolo Che è meglio Vediamo di non far arrabbiare Troppi Wither scheletri Perché Se no mi spaccano L'armatura E non va bene Oh no Enderman Negli occhi Oh già che ci sono Se trovo un po' di pirite Me la prendo Che tanto mi servirà Sicuramente Scendiamo da questa parte L'ho trovata E' questa Piramide del deserto Nera nel nether E' questa Ma non l'avevo già esplorata Vediamo ragazzi Vediamo Se ho fortuna Qui dentro Potrei trovarci Il template di topazio E fare già Il primo pezzo Di armatura Che non sarebbe male Ok c'è una chest Trappola Palese No non credo di averla esplorata Allora Mi ricordavo male Togliamo tutta la tnt da sotto Non la facciamo esplodere A sto giro C'è qualcos'altro Di trappola Per caso dietro Direi di no E abbiamo trovato Allora Una spada con scavenger 1 Che non so cosa sia Libro piercing 2 Inutile Prendiamo tutto ciò Che è incantato Ragazzi Blocco di quartz No Ho avuto sfortuna Mi sa Forse avevate ragione Di trovare si può trovare Ma mi sa che comunque Devi avere un po' di fortuna Ok sotto non c'è un'altra stanza Dei tesori Vero? Direi proprio di no Cosa fa scavenger? I mostri che hai ucciso Potrebbero ridarti Il loot due volte Beh Ti dirò Forse se la mettessimo qua Significherebbe doppia esperienza Anzi Triple esperienza Ci faccio un pensierino Fatemi sapere nei commenti Se quell'incantesimo Può essere utile Nella mia spada Ok Ne devo cercare un'altra Che vuoi che sia Basta guardare con la mappa Allora La struttura è piccolina Quindi devo cercare Un rettangolo Nero Piccino Dovrebbe essere tutto dritto Qua da qualche parte Ok Eccolo qua Proviamo a entrare Togliamo la TNT Subito da sotto Non vogliamo che esploda Eeeh No Mamma mia Mamma mia Pensavo fosse tipo Un template di topazio Qualcosa di simile Ok No Anche a sto giro Non c'è andata bene Ma che problema c'è Ne cercheremo un'altra Certo che è un bell'incantesimo Che mi permetta Di camminare sulla lava Non mi dispiacerebbe Al momento Eh Vi dico la verità Ok Siamo praticamente arrivati Al solito Togliamo prima la TNT E vediamo Sì Ragazzi avevate ragione Oh mio dio Grazie al cielo Meno male ragazzi Che ci siete voi Topazio upgrade L'ho trovato E a me uno me ne serviva Me ne serviva solo uno Perché io adesso lo sdoppio E mi piglio pure Eeeh Vabbè allora Che è La più fortunata del mondo Questa Sweeping edge Ottimo Questo lo sicuramente Lo prendiamo E lo togliamo Spell tom Non so cosa sia Ma lo prenderei E bane of villagers Se non mi serva nulla Top Abbiamo trovato esattamente Quello che ci serviva Finalmente Sono tipo 5 episodi Di fila Che lo cerco Fammi vedere Come cavolo si sdoppia Sto cosa qua Allora Topazio E sandstone Io di topazio ne ho Non ne ho tantissimo Però ne ho E inoltre C'ho già anche Un lingotto Bello pronto E si gode ragazzi E si gode Eh posso tornare a casa adesso Quello che mi serviva L'ho trovato Ah Che è Ah è lui maledetto Uh Ho trovato tutti i biomi Mamma mia ragazzi Meno male che ci siete voi Cioè a quest'ora Avrei continuato a cercare Deserti all'infinito Grazie mille a chiunque Mi abbia detto Che il topazio Si trova Nelle piramidi Del nether Mi hai salvato la vita Fermi tutti Quindi Io c'ho già due lingotti C'ho anche questi Ce l'avrò della sandstone Ma figurati Vabbè la facciamo Che problema c'è Facciamo un po' di sandstone Al volo Così finalmente Potrò sdoppiare Il template Di topazio Questa non l'ho mai presa Veramente Liberiamo pure lui Poverino dai Sicuramente Tutti quanti Vorrete vedere Già l'armatura Pronta in topazio Però non so Se mi conviene Ragazzi Cioè conviene Fare già l'upgrade E utilizzarla Beh volendo Potrei metterci Sia mending Che unbreaking Almeno nel chestplate Così uno Non si romperebbe Due Mi dà un bel po' Di resistenza Eh forse Forse si Forse ha senso Fatemici ragionare Un attimo ragazzi Dai Datemi un secondino Allora intanto Facciamo sta sandstone Ok Non è sufficiente Te pareva Per te volte ragazzi Veramente guarda Paste canne da zucchero Cresceranno all'infinito Mamma mia Che botta di fortuna Ragazzi Cioè oggi ho fatto Dei progressi Che neanche in sei episodi Abbiamo imparato Ad ottenere Gli incantesimi forti Ho imparato A ottenere Il topazio E ho creato Una spada Da farming Incredibile Che mi ha portato Da 20 livelli A 46 Nel giro di niente Meglio di così Questo è l'episodio perfetto È andato tutto quanto Per il meglio Ok Allora Abbiamo detto Smitting template Lo si mette qua Topazio tutto attorno Questo qua Ah ma in realtà Me ne bastava uno Va bene Non fa niente E così ne abbiamo due Se ne mette un altro E ne abbiamo tre E io per il momento Mi fermerei così Tre template Uno lo utilizziamo Quest'oggi E finalmente vedremo La corazza Di topazio Allora Questo libro Nonostante sia pieno Di incantesimi È piuttosto inutile Lo mettiamo nei forze Questo è inutile E questi due Invece sono fantastici Mending E unbreaking Che li andiamo a mettere subito Nel corpetto di nederite Life mending Soul bound Protection Unbreaking E anche Mending Adesso Prendiamo Il lingotto Di topazio Prendiamo Lo smitting Template Di topazio E creiamo Il primo pezzo Di armatura Raffina Ah no Che cavolo sto facendo Lo devo fare qua È ovvio E creiamo Il primo pezzo D'armatura Di topazio Ragazzi Eccola qua Ma com'è rara Ma era rara E non me ne sono accorto Ok forse sì Forse è stato un errore Però ragazzi Sinceramente Chi se ne frega Allora Serve un lingotto Di topazio Per poterli cambiare La rarità Però siccome è molto 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 raro Come lingotto Per il momento Me la tengo così Mi da più 2 di vita E più 5% Di velocità Nonostante sia Soltanto rara In realtà È ottima Oh Adesso sì Che si ragiona Ora sì Che ho un corpetto Veramente Degno di questo nome 1920 120 di resistenza Protection 2 Soulbound Life Mending Unbreaking Mending Questo è il primo pezzo Finale della mia corazza E sono felicissimo Ragazzi Mi raccomando Lasciate un mi piace Se questo video vi è piaciuto Quest'oggi abbiamo fatto Tantissimi progressi E non vedo l'ora Di avere tutto il set D'armatura Finale Completo Perché a quanto pare Sblocca dei nuovi bonus Quando ce l'hai tutta quanta Sono salito a livello 730 Mamma mia E pensare che nello scorso episodio Sono anche morto Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Devo sicuramente andare Nelle caverne di questo deserto Per trovare dell'altro topazio Ciao